E' quanto abbiamo cercato di fare al governatorato dello Stato della Città del Vaticano, sensibilizzando i nostri dipendenti e quanti ruotano intorno al governatorato, direttamente o indirettamente, nei confronti di un'ecologia integrale che si concretizza nelle piccole azioni di ogni giorno. A cominciare dal riciclo dei rifiuti, dal rispetto del verde, dal risparmio nel consumo delle acque e dell'energia, nella scelta di fondi rinnovabili, nell'evitare i gas serra, nel favorire un sempre minore inquinamento atmosferico, privilegiando le modalità di trasporto elettrico e non le scegliere antiparasitari e concimi ecologici che rispettino la terra e i suoi frutti. E' quanto sta facendo il governatorato a cominciare, ancora prima della pubblicazione della Laudato Si, dalla installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura dell'Aula Paolo VI, e si sono in grado di produrre energia elettrica senza emissione di sostanze inquinanti. Ciò rientra tra gli obiettivi preposti per la riduzione del consumo delle risorse.